E' servita una strage nel giorno di Natale e una prima errata ricostruzione che parlava di attacco ai cristiani per riaccendere i riflettori del mondo sull'infinita tragedia irachena. Nel 2013 quasi 7000 persone hanno perso la vita in Iraq, le ultime 35, bilancio ancora provvisorio stamattina, vittime delle esplosioni che hanno colpito il mercato di Torien, quartiere di dura periferia sud della capitale. E' lì che vive una comunità cristiana e in un primo momento fonti della sicurezza locale avevano affermato che ad essere preso di mira dall'attacco terroristico era stato un edificio di culto. Un colonnello di polizia aveva infatti riferito che negli attacchi erano morti alcuni fedeli che uscivano dalla chiesa di San Giovanni. E' bastato questo perché la notizia di una strage di cristiane a Baghdad a Natale facesse il giro del mondo, ma non era così. Con il passare delle ore sono arrivate le smentite del portavoce del ministero dell'interno iracheno e soprattutto le parole del vescovo ausiliare dei cristiani caldei di Baghdad. L'attacco non era diretto ai cristiani, ha spiegato Monsignor Varduni parlando alla radio vaticana. Il vescovo ha invitato tutti a non fare confusione e a non mescolare le cose. L'attentato è avvenuto nel giorno di Natale, ma non perché è Natale, ha concluso. E la strage di Natale è stata derubricata a cronaca di quotidiana mattanza irachena. Proprio così perché a Baghdad e nel resto del paese gli attentati si susseguono senza sosta e lo scontro tra gruppi tribali e interreligiosi si fa sempre più cruento. Attacchi mirati.